buongiorno ragazze qui la cipolla e la mettevo nel contenitore suo per mettere un frigorifero però per primo lavavano la carne che dovevo fare il sugo fatti l'avevo aperta messa nell'acqua la stava sciacquando e poi messa ad asciugare lo spinaccio pulito la 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 ben bene per metterla nell'acqua per farne togliere quell'acido che ne ha che mi fa lacrimare praticamente gli occhi non so voi ma mi fa piangere ne tagliamo un pezzetto e poi l'altro hanno messo in frigorifero non 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comunque ragazzi vi lascio al video, buon proseguimento, un bacio, ciao! Musique 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buon pomeriggio ragazze, sono tutta... I capelli stanno a pazza oggi. Guardate un po' laggiù... Aspetta, i piatti da lavare e la cucina da fare. Non c'ho voglia. Dai, fatemi in compagnia. Facciamo i piatti. Su, su. Adesso vi appoggio sul cavalletto se mi mantiene. E poi... Cominciamo a fare questi piatti. Aspettate un attimo. Ciao. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.